Le 9.41, buongiorno, notizie, è il momento di accogliere, presentare e salutare il nostro ospite, quest'oggi la professoressa Adriana Di Stefano, coordinatrice di Erasmus UniCT, Uni Catania. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno, grazie a voi. Parliamo di giovani, parliamo di università, parliamo di Erasmus con questo progetto che è partito come ogni anno. Come sta andando a Catania intanto il progetto Erasmus? Sta andando molto bene, siamo molto contenti, abbiamo appena ricevuto una valutazione sul programma Erasmus di Catania molto alta quest'anno, 95 su 100, e ci hanno apprezzato soprattutto per i servizi di informazione e accoglienza degli studenti e per la qualità dei corsi di studio. Ricordiamo a quei pochi che non lo sanno cos'è Erasmus e cosa prevede Erasmus. Erasmus è un programma finanziato dall'Unione Europea molto importante che è diventato sinonimo di scambi di mobilità studentesca. In realtà è un programma più ampio, consente a tutti gli studenti iscritti presso università europee che adiscono il programma, sono praticamente tutte le università del panorama continentale europeo, che include anche Macedonia e Turchia e Serbia, quindi qualche paese extra-UE, di muoversi da 3 a 9 mesi durante il loro percorso accademico, anche durante master, dottorati o scuole di specializzazione, per studiare, fare ricerche o fare tirocini in una sede partner. Le sede partner sono determinate da accordi Erasmus appunto, che consentono una cosa interessante, anche scambi di mobilità di docenti, quindi anche i docenti vanno in Erasmus, come si dice, sì, io sono tornata da Vienna dove ho fatto il mio teaching Erasmus, e anche il personale amministrativo, quindi il nostro staff può andare a fare attività di job shadowing, di training, per scambiare buone pratiche sulla mobilità internazionale. Ecco, proprio di recente è arrivato un gruppo di studenti Erasmus, proveniente da dove per lo più? Provenienti da tutta Europa, abbiamo una prevalenza di paesi dell'area mediterranea, c'è molta Spagna, molto Portogallo, e in crescita, un trend decisamente in crescita, è quello di studenti che vengono dall'Europa centro-orientale. C'è tanta Polonia, Germania, ma anche Repubblica Ceca, Slovacchia, e sono i migliori nell'apprendimento dell'italiano. Noi abbiamo una scuola di italiano per stranieri, molto ben accreditata, che fa un grande servizio ai nostri studenti stranieri. Insomma l'Italia attira, attira la Sicilia, ma attira soprattutto Catania, possiamo dire. Attira Catania, sì, che diventa sempre una città... Si trovano bene questi studenti. Sì, e attira anche il primo semestre, perché è un inverno molto mite, e perché i corsi sono ugualmente organizzati, insomma, in modo da offrire un'offerta lunga, tanto che è un trend significativo e che chi arriva nel primo semestre prolunga la permanenza nel secondo, quindi questo è un buon risultato. Legato al progetto Erasmus c'è anche un fotocontest. Di cosa si tratta? Sì, siamo al secondo lancio dell'edizione di quest'anno, è un fotocontest di comunicazione social. Abbiamo lanciato e pubblicizziamo qui una pagina ufficiale Instagram Catania Mizz Erasmus, questo è il nome, cercatela, seguitela, frequentatela, rappresenta un po' il modo in cui, oltre ai nostri eventi, il modo in cui gli studenti Erasmus vedono Catania e raccontano Catania. Si scambiano le idee, si scambiano le esperienze. Sì, 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 sì. L'anno europeo del patrimonio culturale è stato il 2018 e quindi abbiamo chiesto, questo è il tema del contest, di raccontare Catania attraverso il suo patrimonio culturale. C'è un premio finale del fotocontest? Il premio è una stampa delle foto vincitrici che saranno raccolte nel calendario Erasmus dell'anno prossimo in una mostra fotografica, una instant camera, una macchina fotografica ovviamente. Che fa sempre utile. Ed è un premio, in qualche modo, sponsorizzato da Tumarchio, quindi abbiamo anche un mini sweet box delle mitiche tortine. Ricordiamo allora il profilo Instagram? Catania mitz Erasmus. E così c'è modo di seguirlo e di partecipare in maniera attiva. Con la professoressa Adriana Di Stefano, coordinatrice di Erasmus Unict, rimaniamo in studio per parlare ancora del progetto Erasmus dell'Università di Catania. Quindi restate all'ascolto. Buongiorno Notizia. 9.56 ancora in studio con la nostra ospita, la professoressa Adriana Di Stefano, coordinatrice di Erasmus Unict. Parliamo di Erasmus, abbiamo parlato dei studenti che arrivano da tutta Europa a Catania per frequentare, per vivere la nostra città. Ma parliamo invece dei catanesi, degli studenti catanesi della provincia che partono e vanno in Europa. Dove esattamente, professoressa? Beh, un po' dappertutto. Catania ha più di 600 accordi, Erasmus. Quindi hanno una lista molto ricca di destinazioni. I nostri vanno molto in sedi anglofone perché conoscono più l'inglese, ai media altre lingue, ma tornano con grandi competenze linguistiche e arricchimenti di esperienze formative. Quindi va benissimo. Molti scelgono anche le sedi ispanofone e molti l'Europa anche qui centro-orientale. La Polonia è molto oggettonata in questo momento. Abbiamo detto, abbiamo anticipato un po' il tema. È un'esperienza che arricchisce tanto. Ne abbiamo parlato anche fuori onda. Ma cosa significa Erasmus oggi? Significa essere cittadini europei perché la grande forza dell'Erasmus è il riconoscimento di un diritto di mobilità. Come ci si sposta per lavorare e questo lo si fa nel mercato interno grazie all'Unione Europea. Ci si sposta per studiare e si studia in un'altra università senza alcun pagamento di fees, tasse con ospiti come gli studenti della sede e quindi con riconoscimento di crediti con le stesse opportunità con gli stessi servizi ed è una cosa che in altri tempi fino a 30 anni fa perché l'Erasmus ha da poco compiuto 30 anni 30 anni non era possibile e questo ci rende molto più europei di quanto si possa immaginare. I nostri studenti si sentono europei a ritorno è un programma che rafforza l'identità l'appartenenza in tempi di crisi Possiamo dire anche il carattere, no? Rafforza il carattere il senso di adattamento la capacità di studiare non solo in una lingua diversa ma con metodi diversi per questo stiamo molto puntando sul rilancio e sull'ampliamento del programma tra poco più di 20 giorni sarà pubblicato il nuovo bando per i nostri studenti in uscita non ci sono vincoli di medie tutti possono partecipare tutti a partire dal secondo anno dal secondo anno di iscrizione possono partecipare possono semplicemente scegliere una sede candidarsi autocertificando la conoscenza linguistica C'è un numero stabilito? No, non c'è un numero stabilito c'è un ammontare stabilito di fondi e la graduatoria deciderà naturalmente ha più facilità di stare in alto in graduatoria che ha una media più alta Certo, quindi il voto studiate la media è importante e si può fare anche ricerca tesi diciamolo quindi se si è vicini alla laurea e si sceglie una tesi che ammette i tesisti è un'esperienza altrettanto formativa candidatevi l'ufficio mobilità internazionale ricordiamo i contatti per entrare in interazione ci sono tante sigle sul sito di Ateneo UMI ufficio mobilità internazionale che è anche l'ufficio Erasmus vi aspetta in Piazza Università Palazzo San Giuliano che è il palazzo che sta esattamente di fronte al nostro rettorato primo piano è lì per darvi ogni forma di assistenza e informazione ma nei singoli dipartimenti avremo delle sessioni informative e ricordiamo una cosa importantissima i delegati Erasmus i docenti che nei singoli dipartimenti seguono il programma sono sempre a disposizione degli studenti e così pure gli uffici amministrativi e le associazioni studentesche Erasmus Students Network e AEG seguono anche l'informazione e l'orientamento in uscita come si dice quindi c'è un'ampia possibilità comunque di entrare in contatto col progetto Erasmus e tra l'altro per gli studenti stranieri che vengono a studiare qui a Catania è previsto anche una sorta di tutoraggio possiamo dire sì è un tutoring volontario si chiamano Tutor Erasmus o Buddies gli studenti accompagnano dentro i dipartimenti insieme ai delegati per mostrare fare dei mini tour e per dare tutte le informazioni necessarie e questo è un primo contatto con la città e col mondo dell'università che è davvero molto importante l'associazione AEG diciamolo ha un programma interno all'associazione che si chiama Anfitrione e scrivendosi online si possono avere anche dei servizi di Buddies tailored come si dice cioè a misura e al bisogno dello studente e tra l'altro da poco tempo riusciamo ad offrire anche un servizio importante come città quello del trasporto attraverso la metro gratuita metro gratuita importantissimo teatri e attività culturali gratuiti o agevolati questi sono importanti risultati di questa amministrazione vanno ricordati insomma Erasmus sì professoressa è normale che lei lo dica ma lo diciamo anche noi in maniera convinta perché l'Erasmus che compie 30 anni come progetto fa progredire possiamo dire questo fa arricchire fa progredire lo studente racconta l'università ricordate Erasmus la storia di Erasmo da Rotterdam è la storia dell'università come è nata a partire da Bologna i studenti si spostavano ed erano clerici vagantes quindi si si muovevano alla ricerca delle migliori università e poi tornavano e questo è lo spirito giusto ringraziamo la professoressa Adriana Di Stefano coordinatrice di Erasmus Unict per quanto ci ha detto ci ha illustrato il progetto in ogni minimo particolare poi naturalmente attraverso i social è possibile avere tutte le informazioni possibili è possibile anche rivedere questa intervista tra non molto attraverso il sito di studio 90 Italia grazie professoressa e a presto magari per parlare ancora di Erasmus prossimamente grazie a voi noi continuiamo siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Buongiorno Notizia le ultime notizie le ultime rubriche prima della conclusione restate con noi